Radio Monte Carlo, ultimissime notizie, calciomercato, Luca Modric, ancora più vicino al Real Madrid. Questo perché? Perché viene convocato, è stato convocato dal Cittilo Retegui per la Supercoppa di Spagna contro l'Atletico Madrid. Quindi speranze attualmente a lumicino per quanto riguarda la società nera azzurra. Piazza, abbiamo detto, alla Fionettina, Vakoyoko vicinissimo al Milan, presso con diritto di riscatto. Poi la Juve, idea, Marcello, solo se parte a Alexandro. Il Milan, si sono sentiti Elliot e Lotito, ma la cifra è sempre 120 milioni di euro, non si scende da quella cifra lì. E il Napoli, il Napoli, quale sarà? Il Napoli di Belotti o il Napoli di Rodrigo? Aspettiamo a vedere perché Cairo non scende dai suoi 60 milioni di euro. L'idea adesso è 30 più inglese, ma è più facile. Rodrigo, Telemonte Carlo Sport.